ha fatto il danno al TTRS ti ho detto vabbè Arge tepi in altra macchina ma fai due storie 600 euro di danno te lo ripago tu sei un pezzo di m***a tu ti stai creando una cosa con me che nessuno ti ha dato l'ordine tutta questa importanza ma chi ti ha dato con me? ma io faccio come c***o ma te che c***o sei? piacere fratello sono fratellino mi sento Gesù Cristo fratello faccio quello che mi pare con chi mi pare quando voglio perché posso oh io rimango senza parole tu sei talmente forte fratello tu sei forte davvero io sono una potenza fratello io sono una potenza se tu non hai i problemi lo sai che il rischio c'è fratello lo sai che il rischio c'è lo sai che io prendo una macchina fratello ci faccio quello che mi pare se no non mi venivo a prendere la macchina ma tu come ti fai come fai a far padrone che cose e l'altro tu stai mancare rispetto io non ti ho io non ti ho mai mancato il rispetto io ti ho dato una macchina ti ho dato 80.000 euro di TRS mi ha astruciato per far c***o ho chiamato 50 volte tu stai andando in giro con i miei soldi e tu mi dici tu mi stai dicendo io faccio tu mi stai a dire io faccio quello che mi pare perché tu io ti ho dato la macchina perché me la paghi è certo scusa io il danno te lo pago la macchina si ripara allora facciamo una cosa amico mio adesso facciamo una cosa ascolta ascolta dai io ti ho dato padre Pio dai ascolta brutto ascoltami un attimo io non volevo intervenire perché io mi devo fare i c***o senti tu stai a letto aspetta ascolta tanto già stai a letto Brasile la storia è finita per me Brasile Brasile ti dedica la verità Brasile ti dedica la verità ti dedica la verità io guarda è da ieri sera che c'ho che c'ho un veleno dentro che tu Brasile ne abbiamo parlato o devi sassi o devi sassi Arge Arge stai io io stai che sto con te no te stai allargando questa volta te stai allargando Arge te stai allargando non mi resta a me Arge mi resta al Brasile te voglio bene però non sto con te ma te voglio bene ma che sei madre Teresa de Calcutta ma che sei io sono padre Pio io sono padre Pio stai questo questo è una persona io sono Gesù Cristo piacere ok ciao piacere padre Pio ascolta Gesù Cristo ascoltiamo a me questo ragazzo qui sta lavorando e io pure sto lavorando e che lavoro fai rompi le macchine alla gente e tu rompi no io ti chiedi parlo alla gente allora tu rompi le macchine e io ti chiedi ma che discorso è scusa allora a Brasile io te ne ho parlato a Brasile io so due giorni che sto a morire dentro tu mi hai chiamato mi hai detto ma te sei morto di fame mi hai levato 4.000 euro così a buffo dalla macchina tu non è che sei a morire tu sei a morire di fame tu c'è una fame che ti cuore appresso cata io la fai io ho parole te sei un altro morto di fame non fa niente a Brasile c'è un altro morto di fame l'altro giorno mi hai fatto pagare pranzo a me e dico mi sono mangiato una tagliata vengono un piatto di spaghetti t'ho accappato a brutto fio t'ho accappato non t'ho mai fatto cacciare ma che mi hai accappato che prima che me conoscevi ancora Argeta ti ha posso dire una cosa sempre con massimo rispetto dai ma perché muo ti mette in mezzo a quest'altro comunque c'entra ha scritto solo nei commenti ha scritto fammi un attimo entrare io prima ci ho parlato gli ho detto non ti mettere in mezzo sono tre giorni che parliamo gli ho detto non ti mettere in mezzo ma perché sei sempre in mezzo al c***o sto sempre in mezzo al c***o sto sempre in mezzo al c***o per piegare parti a evitare come te ecco che ti voglio dire ma che parti devi prendere oh ti sto facendo io ancora ti posso ancora ti posso salvare se tu ti hai discusa ancora ti posso salvare aiutate da solo perché io ti aiuto intende che aiuta nessuno il problema è tra me e lui se tu c'hai qualche altro problema con me io c'ho ancora di tutte le manco una lettera mi hai scritto quando stavo a calci a c***o corradini questi sono problemi vostri a c***o corradini ancora ti posso salvare vabbè se hai discusa Argece c'è là i sordi Argece c'è là oh senta mamma Argece c'è là i sordi c'hai i sordi per comprarmi tutte quelle macchine che c'hai bravo allora via giù domani e portimi giù ma a me non me ne frega la macchina ma la tengo invece perché tu mi hai fatto il contratto per un'altra settimana e io per una settimana la macchina me la tengo come volemo fa? però questo è giusto ma fermate fai ah ma fai tenere la macchina ah ma fai dammi retta al brasiliano vediamo quanti anni fa poi scalamo tutto non ti preoccupa ma te scalamo di che? ma te che c***o oh fai tenere la macchina ma dammi retta al brasiliano ma fai tenere la macchina questo sta questo sta questo sta a brasilio questo sta a giocare a brasilio ma chi è brasilio? fai tenere la macchina brasilio ma che è brasilio? oggi oggi hai fatto pure il bagno casa è valutata ancora di più no no il bagno lo faccio dentro a qua la macchina si si se ci faccio con il sedile non be' come la volevo mettere io se voglio la macchina te la distruggo e poi te la ripago è questo il problema guarda facciamo una cosa facciamo una cosa vieni giù domani vieni giù non ti hai portato moglie vieni giù domani con la macchina ti riprendi la macchina tua mi lasci i soldi che mi devi e te ne vai ti ho detto io ti ho pagato già in anticipo per una settimana io domani ti accetto tutta la macchina ma accetti io domani ti buco tutta la macchina te la buco dentro al salone e poi me la ripaghi e poi te la ripago perché la macchina sta dentro al salone mio e faccio quello che cazzo ma io tu non hai io domani io domani ti spacco tutta la macchina ma scusa io domani ti spacco tutta la macchina io te lo giuro sull'anima dei miei figli io domani ti svernicio tutta la macchina portami la macchina giù portami la macchina giù invece che sa fare bocchino portami la macchina giù ma io me ti compro portami i soldi portami i soldi io non ti porto una liro io non ti porto una liro dai retta al Brasile dai retta al Brasile senti Maria Teresa De Calcutta dai retta al Brasile Arge Arge portami i soldi con la macchina ma perché ti porto una liro Arge portami i soldi con la macchina domani Arge non ti porto niente te l'ho già pagata ma che ti devo portare che mi ha pagato Arge ti ho pagato la macchina che mi ha pagato ti ho pagato la macchina per girarci per una settimana ancora ok e il danno che mi ha fatto mi stai mi stai a sverniciare la macchina per tutta Roma mi stai a sverniciare e beh ma che vuol dire io io ma l'anima del mio io molto ma io vengo da te tu mi presti la macchina siccome tu me la dà me io vado a girare i paletti beh se te la paga la macchina non fa male i paghi succedono queste cose ma che c***o ma non l'ho fatta apposta ma come l'ho fatta apposta hai cominciato a dire parole brutte io ho cominciato a dire parole brutte oh tu mi hai detto te la sfragno tutta sta macchina ma fa termini senti come oh mi sei sputato sopra e io sto sento a guardarti dietro al telefono vabbè ma mi hai dato una 500 ma che macchina è mi pare che l'audito riportata bene o male è sana sei piante di danno non te l'ho fatta pagare 600 euro di danno non te l'ho fatta pagare vabbè ti ho fatto un par di storie posso mo è capitato sta cosa 4.000 euro già ti sei presi e non mi pare eh un'altra di 4 mi pio domani si mo 10.000 10.000 10.000 euro parola d'onore che mi pio 10.000 euro la carta di credito tua dai se entro le 4 di pomeriggio te lo giuro sui miei figli Arge non so giocare tu hai preso e ti piace a te Arge se entro le 4 domani non stai al salone mio con la macchina e chi gli sordi io ti do una città con la macchina e tu pensi che io vengo domani al salone in un suo alle 4 è solo perché visto che mi stai di così allora io ti rispondo a tono perché non è che mi faccio più a per io so tre giorni che mi so fatti a per no tu non so tre giorni io so tre giorni e mi so fatti a per se io pio una macchina in affitto è perché ho qualcosa da fare va bene se le cose ti stanno bene e bene se le cose ti stanno male va bene comunque perché comunque mi pare che te la sto pagata ma tu stai a sentire che dici ma tu ti senti quello che dici scusa ma qual è il tuo problema non riesco a capire ma tu vieni da me io te do io te do un Ferrari te do un belotto tu ma la sfragni non mi riporti la macchina ci fanno in giro perché la macchina è pagata oh io c'ho un altro contratto della settimana la macchina cammina ma perché te la devo riportare ma che me la paghi te a benzina io non so se te sa oh ma tu mi sei a mettere la prova tu stai a fare ma metta la prova ma tu che te che ti dessi è mafioso è criminale ma io non so nessun mafioso io ti sto parlando io ti sto parlando solo di rispetto a te ti manca il rispetto a te ti manca il rispetto delle persone no io ti rispetto perché sennò non venivo ma che a me stavo a rispettare ma tu mi rispetti come persona ma mi devi rispettare le macchine io che le macchine c'è male se c'è una macchina da te io ti devo lasciare un acconto da parte di 10.000 euro mi pare che te l'ho lasciato mi pare che te l'ho lasciato la cauzione te l'ho lasciata oh te stai fuori dei cervelli se succede tu i soldi li togli dalla cauzione c'è un contratto nel contratto non c'è scritto che non posso incidentare la macchina è capitato non è capitato quello che ti pare a te è successo ti ho ma tu che hai incidentato la macchina va bene ne abbiamo parlato ti mando i messaggi su whatsapp se voglio io rovino la tua immagine a tal punto che io la macchina non è che te la riporto te riporto il volante da una parte e le chiavi dall'altra te lo lascio e te faccio ma grazie di tutto alla prossima e se voglio devi oppure un'altra macchina e allora se dici tutto questo vi è domani che sta cosa la fa tutta domani non ci vengo domani non ci vieni domani no tra una settimana io te la vengo a riportare te la vengo io ma è medesimo il sottoscritto tra una settimana ti riporta la macchina a scadenza del contratto tu domani mi riporta la macchina io ho la scadenza del contratto tu domani perché tu a parte l'incidente che a me mi sa bene che hai fatto l'incidente sai che hai giocato la tua regassa perché mi dai soldi mi paghi il danno non me ne frega un cazzo tu domani mi riporti la macchina perché tu mi stai affiaccarci tu mi ci stai a piccia sopra tu mi ci stai a scudare sopra tu domani mi riporti la macchina ma te fino a prova contraria hai preso a schiaffi la macchina di un cliente allora chi è che ha cominciato io domani te ci pianto una palla dentro la macchina se non mi riporti la macchina va bene tu piantaci una palla poi vedi che te ce faccio io e manco te la ripago allora andiamo a demolizione vai andiamo a demolizione io domani non c'è che faccio domani te la faccio a cartoccia proprio Arge andiamo a demolizione stiamo andando a demolizione che problema c'è va bene grazie a tutti